Se desideri utilizzare l'app di Gmail da iPhone o iPad per una casella di posta Aruba, è necessario che sul dominio sia attivo il servizio Email eMap. Per iniziare, apri l'app Gmail. In alto a destra, tocca l'immagine del profilo. Tocca Aggiungi un altro account. Seleziona Altro eMap. Inserisci l'indirizzo email completo, nome casella chiocciola nome dominio punto estensione, e tocca Avanti. Inserisci i dati di configurazione per la posta in entrata. Nel campo Nome utente indica l'indirizzo completo della casella, la password. Nel campo Server eMap digita imaps.aruba.it, porta 993, tipo di sicurezza SSL TLS e tocca Avanti per procedere. Inserisci i dati di configurazione per la posta in uscita. Nel campo Server SMTP digita smtps.aruba.it. Solo in caso di caselle chiocciolaruba.it o chiocciolatechnet.it, devi digitare smtp.aruba.it. Porta 465, tipo di sicurezza SSL TLS e tocca Avanti per continuare. Nella schermata successiva viene confermata la corretta configurazione. Nel campo indicato inserisci il nome che desideri venga visualizzato dai destinatari dei tuoi messaggi di posta elettronica. Tocca Avanti per concludere. Prima di considerare terminata la configurazione dell'app Gmail, esegui un test di controllo, inviando un messaggio dall'indirizzo di posta al fine di verificare l'invio e la ricezione dei messaggi.